Siamo a un commento veloce sulla Fiorentina di quest'anno Sulla Fiorentina di quest'anno, un commento veloce, sono una grande stagione Siamo in Europa, no? Che voto avresti? No, buon sette, buon sette Stato decisivo italiano? Italiano, anche i ragazzi, spero adesso c'è la faccenda torrera Vorresti rimanesse? Ci vuole un leader così Com'è stata la stagione dell'Inter? La stagione dell'Inter è stata una grande stagione Purtroppo i punti persi in giro ci hanno costato un po' lo scudetto Obiettivamente il Milan ha meritato L'Inter adesso deve ricostruire per portare lo scudetto Da portiere Giulicchi, buon artista quello di Amano Ho parlato con lui adesso Ma lui è contentissimo Cosa pensate di Mbappé? La decisione di rimanere in Pappé Noi possiamo discutere sulle scelte di Kylian Due scelte Restare in Parisi Per il money E spero per lui per il progetto Oltretutto il nostro per il migliorio Per il migliorio è stato il migliorio di fare Per il migliorio di giocare Per il migliorio disellere in Pappé E spero per il migliorio di giocare E spero per il migliorio di giocare Sì